E cambiamo argomento e parliamo adesso di separazioni, un momento sicuramente molto delicato che può coinvolgere una coppia. Lo faremo oggi insieme a due ospiti d'eccezione con cui analizzeremo questo momento sia dal punto di vista legale che dal punto di vista psicologico. Quindi diamo il benvenuto in primis all'Avvocato Micaela Bruno, Presidente dell'Associazione Matrimonalisti Italiani in Molise, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E poi allo psicologo e direttore del TCE Therapy Center, Ilpidio Cecere, buongiorno. Buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori di Mattina Live. Buongiorno Ilpidio. Allora, Avvocato, quello della separazione per una coppia di coniugi è sicuramente un momento decisivo, anche molto delicato. Ad oggi, com'è la situazione in Italia? La sensazione sembra che il ricorso alla separazione sia un trend, ahimè, in aumento? Assolutamente sì. In effetti lo è. Diciamo che è un momento delicato non soltanto per la coppia ma per l'intero nucleo familiare. Leggevo ultimamente su Repubblica alcuni dati che sono sicuramente incisivi, poiché c'è un incremento in particolar modo delle separazioni, anche se c'è quasi uno stop dei divorzi e anche questo poi ha una spiegazione, una giustificazione legata un po' anche alla nostra storia culturale e politica. Incide la separazione in modo particolare sulla nuova gestione della famiglia, non che sia sempre un male, dottoressa, perché spesso capita che soprattutto per i figli minori sia più importante invece riscoprire una nuova serenità anche in un nuovo nucleo familiare ricostituito e parliamo molto anche di famiglie ricomposte. Assolutamente sì. Ecco, Elpidio, quali sono secondo la tua esperienza i motivi principalmente che spingono poi le coppie o solo uno dei due coniugi a prendere questa decisione di separarsi? Rispetto a prima può sembrare strano ma non ci capiamo più. Mentre prima c'erano delle basi importanti sulle quali si andavano a fondere poi quelle che erano le relazioni, oggi sia con la televisione, soprattutto anche con i film, con la filmografia, si è passati all'idea della separazione. Separazione come scelta, una scelta che in effetti coinvolge poi entrambi i coniugi. Certo, Avvocato, quali sono le principali felicità e anche proprio le difficoltà che devono essere gestite dal punto di vista proprio strettamente legale durante la separazione? Allora, diciamo, possiamo dire che gli aspetti principali e le criticità maggiori sono legati alla gestione dei figli minori poiché si assiste diciamo a trend differenti, nel senso che ci sono genitori molto legati ai bambini che pertanto magari discutono e la controversia è legata alla volontà di ciascuno di loro di trascorrere il più tempo possibile assieme ai minori ed il trend completamente opposto che è quello invece diciamo della disattenzione o della mancata cura del genitore che vede a volte la separazione come un momento di rinascita personale senza sapere che poi si perde la coniugalità ma si mantiene la genitorialità, si è sempre genitori per tutta la vita, grazie a Dio insomma. Il pidio invece poi per alcune coppie è anche un'ulteriore difficoltà, quella per esempio di comunicare a chi è vicino insomma questa decisione quindi immagino anche ai propri cari, la paura anche del giudizio nei nostri affetti può diventare un peso ulteriore ovviamente che va ad aggravare su quello poi della separazione stessa. Allora innanzitutto dobbiamo dire che dipende sicuramente dall'età dei bambini, dall'età dei figli naturalmente con un bambino di 3-4 anni è differente la comunicazione che può avvenire rispetto ad un adolescente di 13-14 anni. Quello che voglio consigliare a tutte le persone che ci stanno ascoltando è di non spingere i ragazzi contro l'altro genitore perché quando le cose non vanno invece di unirci tante volte noi ci separiamo, decidiamo di dividerci, di allontanarci però vengono messi in mezzo dei figli, i ragazzi appunto sia piccoli che adulti che non hanno nessuna colpa per cui è fondamentale comunicare con i ragazzi e ci sono tantissimi libri che poi attraverso il racconto di storie psicologiche per questa comunicazione. È preferibile farlo insieme. Se sono molto piccoli senza dare la realtà, la comunicazione reale quindi se ad esempio mamma ha tradito papà o papà ha tradito mamma si può comunicare in un diverso modo. Nel momento in cui i ragazzi sono un po' più adulti invece parliamo quindi di adolescenti o post-adolescenti è giusto comunicare la realtà dei fatti perché altrimenti poi loro potrebbero venire a sapere o da uno dei due genitori o dalla famiglia oppure dagli amici e questo appunto può portare disagi psicologici ai ragazzi. Avvocato, quindi nel caso in cui la coppia avesse figli quali sono proprio le priorità che durante la separazione vengono poste? Allora, ormai parliamo già dal 2016 di un collocamento che deve essere considerato condiviso quindi la genitorialità ormai è sempre condivisa a salvo non ci siano dei motivi di violenza sui minori e in quel caso quindi si perde la responsabilità genitoriale sullo stesso. Diversamente parliamo quindi di un affido congiunto con una collocazione presso uno dei due genitori che non è detto debba essere per forza la mamma anche se le statistiche dimostrano che lo è. La cosa importante è un po' quello che diceva il dottor Cecere, mi aggancio al fatto che è fondamentale dobbiamo pensare che quando parliamo al nostro bambino dell'altro genitore parliamo anche di noi perché è la scelta che noi abbiamo fatto per prima e quando abbiamo deciso di sposarlo per cui parlare bene del papà o della mamma quando sono assenti significa fortificare il bambino anche nelle scelte di vita e quindi anche nella sua capacità di aderire a quelli che sono i valori poi della famiglia, del nuovo nucleo familiare. Ma in che modo ovviamente quando le condizioni lo permettono possiamo anche garantire la presenza di entrambi le figure genitoriali? Allora, siamo sempre, devo dire, soprattutto nelle coppie più giovani. Tenga conto che in questo periodo possiamo dire che il 45% delle coppie italiane si separa diciamo dei corsi i primi dieci anni del matrimonio per cui ormai è una realtà il fatto che si abbia anche delle classi, si vivano situazioni in cui i genitori sono separati. È importante mantenere con intelligenza e con prudenza e con amore anche gestire la nuova situazione di fatto ed essere presenti, per esempio noi mettiamo nei nostri accordi separatizi che siano presenti alle festività, nei compleanni, dove è possibile anche farli insieme. Si parla molto di famiglie allargate, è una nuova realtà il fatto che spesso dove è possibile ci si aggancia anche alle nuove famiglie, alle nuove presenze che non andranno a sostituire la figura genitoriale ma possono essere delle nuove figure di riferimento affettivo per i minori. Ecco il video, come gestire proprio questa situazione che diceva adesso l'avvocato? Come diceva l'avvocato poco fa, sono sempre di più le famiglie allargate e c'è da dire che non sempre i figli che poi vengono inseriti all'interno di una nuova famiglia possono andare d'accordo. Ecco perché è giusto che i genitori possano sia trovare dei momenti di condivisione con il proprio figlio ma poi quando entrambi sono d'accordo, quindi il figlio di lei e il figlio di lui, trovare dei momenti di condivisione univoca come potrebbe essere una vacanza che non deve essere per forza di una settimana ma di due o tre giorni oppure andare a mangiare la pizza una volta a settimana. Quindi è importante per i genitori condividere il loro tempo non per forza con tutta la famiglia allargata ma soprattutto con i figli anche perché qui stiamo parlando di adulti ma mi fa piacere parlare anche dei ragazzi che poi mi portano questa esperienza del condividere più tempo con i propri genitori e non con i compagni dei propri genitori perché poi molte volte, come diceva poco fa l'avvocato, c'è un cambiamento costante e continuo quindi può essere che il ragazzo può vedere più compagni del padre o più compagni della madre e quindi è fondamentale raccontare ai propri figli anche l'idea di una stabilità perché poi i figli sono lo specchio di quello che vedono nei confronti degli adulti e soprattutto nella modalità relazionale dell'adulto. Ecco avvocato, purtroppo la cronaca continua ad affollarsi di casi di violenza ovviamente violenza soprattutto sulle donne in casi critici come questi in che modo si può in qualche modo assistere anche la vittima di violenza aiutandola ad uscire da queste situazioni? Sì, diciamo che il ruolo dell'avvocato matrimonialista è molto delicato perché abbiamo diciamo l'onere e l'obbligo anche di distinguere quando parliamo di una vera e propria violenza oppure di un conflitto che purtroppo è fisiologico nei momenti di separazione è vero che c'è un incremento, i dati confermano un incremento di quelle che sono le violenze in famiglia quindi quello che è il delitto, ne abbiamo parlato la scorsa settimana al Senato del maltrattamento in famiglia per come viene visto però è anche vero che molte denunce sono di natura strumentale non sono soltanto denunce depositate, querele quindi fatte dalle donne ma molte volte sono anche i mariti perché oggi la nuova frontiera della violenza è anche quella economica di natura economica oggi le donne sono sempre più emancipate, sono sempre più indipendenti e questo chiaramente comporta poi che ci siano delle reciproche violenze l'importante è riuscire a capire poi l'esperienza dell'avvocato matrimonialista in questo aiuta quando è solo una strumentalizzazione e si capisce molto facilmente quando la coppia non mette al centro i figli quando invece una coppia anche in fase di separazione mette al centro l'interesse dei bambini e dei figli è una coppia che vuol dire che ha fatto anche un buon matrimonio perché una buona separazione viene fuori da un buon matrimonio assolutamente sì ecco il pidio quanto in questi casi anche l'aiuto di uno psicologo è importante anche un professionista appunto come te che può aiutare una donna vittima di violenza che non trova neanche il coraggio a volte di denunciare il coniuge ed uscire quindi da questa situazione di violenza è fondamentale la nostra figura in collaborazione appunto con la figura dell'avvocato è soprattutto importante lo diciamo a tutti i telespettatori al di là del denunciare che deve essere il primo passaggio che poi la vittima di violenza deve attuare ma è fondamentale anche l'approccio dello psicologo nei confronti della vittima con la psicoeducazione la vittima deve conoscere, deve sapere che cosa può fare in quel momento e soprattutto la nostra idea è quella di allargare la rete sociale la vittima deve sentirsi protetta non solo dallo psicologo che può arrivare fino ad un certo punto ma noi cerchiamo di spingere la vittima appunto di violenza a trovare dei collaboratori all'interno della famiglia che cosa significa? delle persone che possono darle una mano, che possono supportarla perché è vero come diceva prima l'avvocato Bruno che c'è un'emancipazione da parte della donna però molte volte la violenza è anche economica nel senso che le persone all'interno della famiglia e soprattutto le donne all'interno della famiglia sono quelle che non lavorano e quindi hanno difficoltà a separarsi, ad allontanarsi anche da una violenza appunto come dicevamo prima proprio perché hanno paura poi di restare senza soldi e quindi decidono di resistere e di rimanere all'interno della coppia anche attraverso una violenza psicologica o appunto fisica Ecco avvocato abbiamo parlato di violenza sulle donne ma che cosa bisognerebbe fare ovviamente dal punto di vista legislativo per tutelare in qualche modo le donne? Allora questa è una domanda intelligentissima che purtroppo si scontra però con la nostra realtà perché il nostro è uno Stato che è in perenne emergenza Il legislatore cosa fa? Introduce delle sanzioni sempre maggiori perché segue un po' quelle che sono le denunce e quelle che sono le richieste dell'opinione pubblica ma poi non delinea quelle che sono le condotte cioè cosa effettivamente non dobbiamo fare per non essere incriminati per maltrattamenti in famiglia Bisogna stare attenti Non sempre l'aumento delle sanzioni è una risposta e quindi molte volte alla risposta punitiva deve seguire tuttavia una reazione anche di natura comportamentale fondamentalmente se noi non partiamo dall'educazione e quindi dalla base diciamo dalle scuole, dalla famiglia e non insegniamo ai nostri figli ad agire nel rispetto dell'altro sarà difficile risolvere solo ed esclusivamente con un intervento di natura legislativa C'è sicuramente la possibilità dell'allontanamento dalla casa coniugale ci sono degli interventi che può fare il pubblico ministero nell'immediatezza in caso di codice rosso il famosissimo codice rosso tuttavia devono esserci anche delle evidenze probatorie perché se allontana il papà o la mamma dalla casa coniugale significa anche allontanare non soltanto dal coniuge ma anche dalla prole Chiaramente E Pidio ma ci sono dei campanelli d'allarme che ci fanno capire che una donna sta riservendo ovviamente in casa della violenza Sì, sicuramente l'isolamento Il fatto che quella donna decida di allontanarsi dalle amicizie può succedere anche quando la donna decide di allontanarsi dal mondo lavorativo e soprattutto quando ci accorgiamo che quella persona decide di allontanarsi anche dal suo sistema familiare non vuole portare quell'esperienza di disagio anche perché l'emozione principale che una donna che viene maltrattata può vivere è la vergogna oltre all'imbarazzo però quella principale è io mi vergogno di aver fatto una scelta e quindi di aver scelto un uomo che in effetti può abusare di me che mi picchia e appunto che attiva una violenza psicologica Mi collego giusto pochissimi secondi sul messaggio dell'avvocato Bruno che ha detto poco fa sull'educazione all'affettività pensate che l'80% delle insegnanti in Italia sono donne questo ci deve far riflettere perché quando donne insegnano ai bambini significa che dobbiamo far passare un messaggio importante che la donna è fondamentale in questa società e che ci sono differenti tipologie di comunicazione non sempre la rabbia o l'aggressione nei confronti di una donna è la comunicazione giusta quindi consiglio che diamo alle donne che sono anche insegnanti quello di far passare questo messaggio giustissimo e io vi ringrazio per essere state in nostra compagnia questa mattina live quindi in primis ringrazio l'avvocato Michela Bruno presidente dell'associazione matrimonialisti italiani Molise e poi lo psicologo e direttore del TCE Therapy Center Elpidio Cece grazie a voi grazie Elpidio pubblicità tra pochissimo con Mattina Live grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti